E' risultata positiva l'indagine di gradimento sui servizi forniti da Aset che supera a pieni voti la prova del giudizio da parte dei singoli cittadini, famiglie e imprese. Secondo il campione utilizzato dalla società strategica di Chieti, presi in appalto per l'indagine, si evidenzia che oltre alle mille interviste effettuate, quest'ultima ha rilevato un indice di gradimento che nel complesso si attesta sui livelli di eccellenza. L'indagine si è svolta nei luoghi più frequentati riguardanti ciclo idrico integrato e igiene ambientale. Nel caso dell'igiene ambientale il grado di soddisfazione ha raggiunto il 94,4%, nel caso del ciclo idrico integrato invece ha raggiunto il 90,5%. Abbiamo raccolto una cosa estremamente interessante che è stata la grande disponibilità dei cittadini. Cioè l'azienda che ha portato avanti questa indagine si è positivamente meravigliata perché dopo un primo approccio che riguarda i primi 60 secondi si è subito instaurato una sorta di canale privilegiato dove l'agente si è aperta molto. In alcuni casi addirittura hanno anche ringraziato per la possibilità che gli veniva data per poter dire in qualche modo la loro. Hanno notato una grande collaborazione. Il primo confronto che abbiamo avuto è stato che c'è una partecipazione degli utenti importante, quindi una predisposizione importante nel rispondere, nel valutare, nel richiedere eventuali modifiche, nell'apportare critiche più o meno costruttive. La seconda cosa è il risponso che non ci aspettavamo nella misura in cui c'è stata. Abbiamo in tutti i servizi proposti, abbiamo superato la cosiddetta soglia dell'eccellenza, cioè il 90%. Cosa vuol dire? vuol dire che in tutti i servizi, nelle votazioni che vanno dallo 0 al 10, tutte hanno superato l'asticella che va dal 6 al 10. Quindi più che sufficienti, nel vero senso della parola, parliamo di eccellenza nei servizi. L'indagine è infine sondato. Il giudizio dei fanesi anche su altri servizi forniti da Aset, tra cui farmacie comunali con indice di gradimento del 91.6%, pubblica illuminazione con il 79.8%, laboratorio analisi con il 52.2%, sosta pagamento con il 66.6% ed illuminazione votiva con l'83.3%. Da migliorare invece, secondo quanto riportato dall'indagine, è l'azione di contrasto ad alcuni incivili che sporcano le varie isole ecologiche. C'è anche una richiesta importante di videosorveglianza, cosa che noi abbiamo un piano già stabilito, abbiamo identificato in 52 isole ecologiche quelle che in qualche modo creano qualche problema. Tra parentesi, Aset gestisce 1.060 isole ecologiche in tutti i comuni, di cui 500 solo fanno. Quindi la risoluzione non è estremamente semplice. Abbiamo previsto praticamente l'installazione di 50 videocamere, ne abbiamo installate 37, adesso nei prossimi mesi installeremo gli ulteriori 18 per completare il giro e quindi per avere su 52 isole ecologiche la dovuta segnalazione e l'impiantistica tale da poter in qualche modo sorvegliare quello che sta accadendo.